Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto. Ho scovato per voi una idea carinissima per attività di storytelling. Basta una pagina web apribile da qualsiasi dispositivo, nel mio caso per mostrarvi la versatilità sto addirittura usando lo smartphone, ma potete anche usare il monitor interattivo, quindi potete usarla in classe, computer, tablet, ciò che desiderate per usare Story Dice. Story dice sito di riferimento, guardate bene in alto, Dave, Dave, Beers, con due S, nome e cognome dell'autore, punto com. Risorsa super free da utilizzare così com'è, tanto geniale quanto semplice, dadi con oggetti da attirare e sulla base di quegli oggetti parliamo in inglese, costruiamo storie, scriviamo un tema, scriviamo un racconto, diamo vita a disegni, basterà accedere a questa pagina web, cliccare Roll Again, pulsante nero che osservate, nuovo lancio di dadi e ancora Roll Again. Questa è la versione a 5 dadi, ma se non ci basta noi vogliamo 9 elementi per costruire una storia, in alto a sinistra nella pagina web c'è la versione 9 versions. E hop là, vado per voi a ridurre, eccoci qua vedete, a perfezionare un pochino lo schermo e in questo caso, ovviamente possiamo poi zoomare la pagina come desideriamo, ecco i nostri elementi per cui io potrei sedermi, quindi sit down, potrei play a guitar, eccetera eccetera. Io ora ho, tra virgolette, parlato in lingua inglese e non me ne vogliano le colleghe, i colleghi di lingua straniera, ma gli utilizzi sono molteplici, così come variegati sono gli ordini di scuola in cui possiamo utilizzare Story Dice e lo storytelling diventa semplice come tirare dei dadi. Provate! E ancora un caro saluto a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!